E benvenuti cari lettori, come state? Spero... Perché quando ci sono dei pacchi da spacchettare si presenta tutta la famiglia qui? Cioè io sto sempre da solo, ma quando c'è un pacco da spacchettare arriva tutta la famiglia. Tanto non c'è niente per voi! Benvenuti cari lettori, come state? La sigla di comette. Benvenuti cari lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Marco, lei è Anna e lui è Luca DJ. E qui parliamo di fumetti e di cose nerd. E tra i tre c'è solo un bambino, scoprite qual è. Allora ragazzi, siamo in questo lunedì Uggioso. Lunedì. Lunedì. No, oggi è domenica, ma quando andrà il video sarà lunedì. Quindi se volete fare video, un minimo di professionalità. Uggioso non voleva dire che pioveva, tipo. No, Uggioso vuol dire che c'ha il cervello Uggioso. Uggioso. Apriamo il pacco? Benvenuti cari lettori, oggi ci abbiamo un pacco. Anna, quando devi aprire i pacchi è come quando deve mangiare. Diventa intrattabile. E quello che devo prendere per te non ce l'avevano ieri, che vuoi da me? E però c'è la roba mia. Ragazzi, è arrivato il pacco mensile di Climax Comics. Non era Climax. Oh, Climax Comics. Come vi pare? Tanti fumetti sono in italiano, che vi frega. E, oddio, ho spaccato sicuro un fumetto. E è sempre molto ben impacchettato. Anche troppo ben impacchettato. Allora, Anna Sanza. Non vi preoccupate, i fumetti dentro stanno bene. Più o meno. No, stanno bene. Allora, vediamo un po'. Poi prendo il monitor io, più che i fumetti. Prendo il monitor, lo spacco tutto. Vabbè, il figlio si repara, il monitor è difficile. La figlia si repara, il figlio no. Ecco, a posto. E l'abbiamo fatta. Allora, adesso... Adesso sarà difficile fermare le loro mani che si accapigliano, no? Per riuscire ad aprire il pacco. Attenzione che c'è un botto di roba. Lo vedo. Ma è pienissimo. Io lancio. Oh, oh, oh. C'è la madre che lo sta guardando malissimo. Allora, togliamo tutto. Dammi questo. Dammi questo. No, 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 no. Testa te lo metto. No, 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 no. Allora. Era mio. È arrivato anche il cane perché ha visto tutto questo casino. È arrivato il cane. Dai, uno alla volta, uno alla volta. Ah, c'è anche questo. Non so che cosa è questo. Credo si voglia mangiare la catica. Però non è un fumetto perché non è grande abbastanza un fumetto. Quindi ci hanno mandato qualcosa di strano. Qualcosa di strano. Uno alla volta, vai. Sakamoto Days. Oh, un fumetto di Marco. Ha pensato a te, allora. Che cos'è? Sakamoto Days. Allora, Sakamoto Days. 5,20 euro. Allora, Sakamoto Days. Pure la bustina. Scusa. Vai, parli. Sakamoto Days parla di questo sicario. Giusto. Sakamoto. Di questo sicario che era fortissimo, distruggeva tutti, era il più forte al mondo. Però a un certo punto è diventato grasso, si è sposato e fine. E quindi si parla di questo Sakamoto. E tentano in tutti i modi di, la jacuzzi tenta in tutti i modi di ucciderlo. Tattano. Nonostante lui abbia, si è uscito dalla jacuzzi. Dalla jacuzzi? Poi. Era una piscina alla jacuzzi. Marco Lì, ma perché tutti per te i fumetti sta oggi? Kaiju number eight. No. È il 9 questo. Kaiju number eight, 9. Kaiju. Kaiju. Che Kaiju? Kaiju number eight, 9. Yes. Di Naoya Matsumoto. Continua. Ma perché non ne parli? Lo sta a leggere tu? Allora, Kaiju number eight è la storia di un ragazzo nel Giappone, dove ci sono questi mostri, Kaiju, che praticamente distruggono tutto. E quindi hanno creato delle forze, tipo militari, per farvi capire. Oh, Dio. Che distruggono. Maronna. Guardate come sembra il gruppo di ricerca, questo, dell'attacco dei giganti, il simbolo. Un ragazzo. E guardate come sembra questo qua, un gigante, l'attacco dei giganti. Gigante. Ragazzi, ragazzi, si prende ispirazione qui, eh? E praticamente questo ragazzo voleva far parte di questi militari, però un giorno succede che si mangia un Kaiju e diventa lui un Kaiju. Un Kaiju. E quindi un casino. Un mezzo Kaiju. E niente, Anna c'ha la tosse da otto mesi. Otto anni. Questo qua sembra molto berserk. Questa cosa qui. Questa vignetta. Vabbè. Anche questo qui, un fumetto per i più giovani, ma anche per chi vuole letture un po' più frizzantelle, così, senza troppo pensiero sopra. Questo è l'ultimo. No. Come no? Non è l'ultimo. Dovrebbe finire al 28. Ah, quindi non è l'ultimo. Si parla che dovrebbe finire circa il 28. 5 ore e 20, il 26. Si parla di questo ragazzo conoscenziato che praticamente a un certo punto, boom, tutto il mondo diventa pietra. Non proprio tutto il mondo, tutte le persone. Però lui si risveglia. Lui tipo distrugge la pietra e dopo 7.000 anni però ci riesce. E quindi praticamente dopo questo piano piano lui ricrea tutta la civiltà perché in 7.000 anni si è distrutto tutto, ricrea la civiltà e c'è questo Wee-Man di cui non si sa niente, soltanto che manda messaggi dalla Luna. Ah, quindi loro devono andare sulla Luna per tentare di capire chi è lui. E quindi ora si fa. Per quello c'è il razzo spaziale. Solo 26 volumi per arrivare a costruire un razzo spaziale dall'età della pietra. Eh, è una bella cosa. Vabbè, però diciamo che Dr. Stone, questo ragazzo qua, Senku, era un liceale che era bravissimo, sapeva tutto nelle materie, era un genio. Ok. E quindi sapeva ta-ta-ta-ta, ti crea il cellulare, ta-ta-ta-ta-ta, ti crea il razzo. Più o meno come te, come te. Ovvio. Ovvio. Marshall. Magic and Muscles. Allora, si parla di questo ragazzo che vive col nonno e praticamente il nonno viene minacciato, se mi ricordo bene, non mi ricordo. E praticamente il nonno viene minacciato così lui va in questa scuola di magia. Però lui è un ragazzino che utilizza. Il nonno viene minacciato perché in questo mondo non può esistere un ragazzo che non abbia la magia, non abbia le capacità magiche, viene ucciso se non ha le capacità magiche. Quindi per salvarlo, domanda comunque nella scuola di magia, lui come si salva? Con la forza. Perché lui è fortissimo, è velocissimo, è troppo forte. E ora sta cercando di diventare un T-Big. Lui usa la sua forza sovrumana come se fosse magia. Nel frattempo Anna tenta di boicottare il video, però va bene così. Va bene così. E anche Marshall. Poi? 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 Oh. Andiamo. Oh, per darsi fastidio a vicenda ai due fratelli, soprattutto quella grossa. Si capisce così? Quella grossa, quella grossa, soprattutto. Claymore numero 12. E il numero? L'altro giorno mi hanno detto che Claymore... Il numero? No, The Witcher somiglia molto a Claymore. E devo dire, per quello che ho letto io, alcune cose sì, sono riprese. Il numero 12. E il numero 13. E il numero 13. 13 sempre di Claymore. Trattasi di un racconto fantasy, decisamente adulto. Alcuni lo definiscono anche il bersac al femminile, non c'entra proprio niente. È molto meno epico, almeno fino a che l'ho letto io. Però molto godibile. Quindi, se vi piacciono i fantasy e se non avete null'altro da leggere, ma se volete leggere una bella storia, leggetevi Claymore. Ah, comunque mi sono iniziato Pluto. Sei iniziato Pluto. Pippo, Pluto, sette via. E c'è, invece, il pacco segreto. Che bravo cane. Il pacco segreto. A me da Climax mi hanno detto, ti mandiamo una cosa segretissima. Speriamo, speriamo che ti piaccia. Mi hanno mandato un sacco di carta. Speriamo che mi piaccia tutta sta carta. Io ho visto... No! È un pacco vuoto. È un pacco vuoto. Non c'è nulla. Non c'è nulla. E invece no, ragazzi! Perché da Climax Comics, se usate i nostri codici, che non sono codici affiliati, ma sono codici sconto per voi, che poi vi metto qua sotto in descrizione, ricordatevi i codici di Climax, di utilizzarli. Se in questi giorni, non so fino a quanto dura, poi chiedetelo a loro, spendete almeno 50 euro, vi regalano la tazza della Volpe Samurai. Sì, Volpe Samurai. Che bella! La Volpe Samurai. Bellissima! È bella sta tazza, eh? Questa è la mia! Non è che è tua, tu nemmeno bevi, qua ci devo mettere il vino. È la mia! Ma c'è un'altra novità sul sito di Climax Comics che ho visto l'altro giorno e del quale mi hanno parlato. C'è la possibilità, mentre fate il carrello, se qualche titolo non c'è ancora e Anna se sta ferma, se qualche titolo non c'è ancora lo potete mettere nel... Comunque potete finire l'ordine e poi quando risulterà disponibile e raggiungerete la cifra di 40 euro, quindi per non pagare le spedizioni senza il mio codice, ma con il mio codice non le pagate comunque, Tipo preordine. Vi farà, esatto, vi farà uscire l'ordine. C'è Anna che mi devasta. Vi farà uscire l'ordine soltanto quando raggiungerete la quota per avere la spesa di spedizione gratuita. Oppure mettete il suo codice. Sì, lo so, mi sono distratto. Mi sono distratto. Se non c'è un fumetto ve lo dà come preordine e quindi poi vi arriva. vi arriva quando raggiungerete le spese di spedizione gratuite. Ma comunque qua sotto... Oh, vuoi venire tu? Qua sotto in descrizione ci sono tutti quanti i codici per il 5% di sconto ma anche per le spedizioni gratuite sopra i 29,99 o 90. Ragazzi, io ringrazio Climax Comics come sempre. Vi ricordo che oltre a tutti sti manga c'hanno Comics e compagnia bella che potete prendere tutti i prodotti Leviathan Labs. Vi ricordo che il mio non è un codice affiliato. Io, oltre ai fumetti che ci manda gratis, grazie, in Gifted, non ci guadagno nulla, ma ci guadagno perché voi ci avete lo sconto. È una bella fumetteria fisica. Va bene? Detto questo possiamo chiudere qui i video. Ci vediamo al prossimo video. Flick privato. Anna, però non sei così allegra come dovresti essere. Ma ho trovato una punta. Eh, ma ho capito. Però qua c'è di tutto da legge. Mannaggia, inizia a leggere qualcos'altro pure. Niente. Non i miei di fumetti. Oh, una volta li leggeva i fumetti. Non li legge più. Ma ormai fa il classico, quindi soltanto bestseller di metà dell'ottocento. Il latino. Il latino? Il latino. Vabbè. Se siete arrivati qui, io penso che non ci avete proprio niente da fare. Comunque, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video, che sarà a martedì, probabilmente. Che sarà domani. Ci vediamo domani, per il solito prossimo video. Ricordatevi, stasettimana arriveranno sicuramente i video su Dylan Dogg, la serie irregolare, Samuel Stern e probabilmente anche quello, se lo riesco a trovare, di Morgan Lost, che ancora non trovo. Se arrivo qualche pacco, il pacchetto è un pacco. Oppure, l'obbligo a fare qualche video io. Ciao, belli. Ciao. Ci vediamo al solito, il prossimo video sarà martedì. Domani? Ciao. Chi è che rimette a posto tutto il casino? Non io, perché io l'ho fatto. No, non è vero. Ciao.